Ben trovati con l'informazione a cura di meteocalabria.net. Sarà un weekend tutto sommato stabile, con temperature sempre in media ma molto ondosi in accentuazione. Condizioni che potrebbero precedere un nuovo peggioramento previsto per l'inizio della prossima settimana. La giornata di sabato 13 proseguirà in genere con cielo poco nuvoloso sul versante occidentale e nell'interno, sereno invece sulle ioniche. Segnaliamo la possibilità di locali piovaschi alle ore sarali notturne sul litorale tirrenico. Mari da poco mossi a mossi durante il corso della giornata per 20 tesi di ponente. Domenica 14 ci aspettiamo dei fenomeni al mattino sulla bassa Calabria, comunque in eventuale miglioramento già col passare delle ore. Quanto sarà probabile lo sviluppo di rovesci pomeridiani nell'area del Pollino. Mari mossi e caldo in media alle ore diurne, fresco al calare del sole. Lunedì 15 dovrebbe concretizzarsi una nuova fase instabile, ad opera di correnti fresche in ingresso da nord, possibili piogge sparse a macchia di leopardo già dal primo mattino e su tutto il territorio regionale. Ovviamente, vista la distanza temporale ancora importante, cercheremo di essere più precisi nel prossimo aggiornamento. video. Grazie per l'attenzione e buon weekend.